Stasera alle 21, nuovo, importante e attestissimo appuntamento con il programma sportivo Free Sport dedicato al Benevento Calcio condotto dal giornalista Antonio Martone, in onda sull'emittente a diffusione regionale LabTV, canale 625 del Digitale Terrestre, in diretta streaming sul sito labtv.net e sulla pagina Facebook LabTV. Speciale e particolare il programma di stasera con i consueti approfondimenti sul campionato dei giallorossi, in particolare sulla gara contro il Pisa che ha sancito l'inizio del girone di ritorno e sul mercato. Diretta telefonica con il campione del mondo Ciccio Graziani. Come sempre spazio social con gli sportivi che da casa potranno interagire con lo studio attraverso i messaggi o che potranno intervenire anche telefonicamente. In studio con il conduttore Antonio Martone ci saranno il giornalista Gianluca Napolitano, il noto medico sportivo Alfonso De Nicola, l'opinionista Enzo Bozzi e il giornalista Domenico Passaro.